E' un piacere avere ai nostri microfoni Francesco Baccini a Terni con una formazione un po' particolare che sta portando in giro da un anno circa. Più o meno un anno, esattamente un anno fa uscire il primo video dell'album Arche Frecce che era la Vicante di Te, quindi un anno esatto. L'idea com'è nata? Perché alcuni brani si sposano, altri magari c'entrano poco con questo arrangiamento. Allora beh, alcuni brani si sposano, altri invece sono completamente, come dire, Genova Blues, quindi con il quartetto d'archi la facciamo piano di guitarra. La facciamo con un progetto, innanzitutto unplugged nel vero senso della parola perché è tutto fatto con strumenti acustici, suonato. Nel disco c'è anche tipo clarinetto, armoniche. Nella formazione live invece abbiamo soltanto piano chitarra e i quattro archi. Noi abbiamo assistito al soundcheck, abbiamo rubato qualche immagine, c'è anche un omaggio ad Andrè? Assolutamente, ce n'è una di Andrè e una a Tenko, anche perché, ora mi tocca un attimo perché sono il penultimo dei Moicani, perché c'è Gino Paoli, poi c'è rimasto Ivaro Fossati. Come dire, sai, i cantautori sono, è un genere che tutti amano tutti, però è in via di estinzione, nel senso che non si sentono nei grandi network, in televisione zero, però fa parte della tradizione italiana, forse la tradizione italiana più importante. La tradizione dei cantanti, cantatori che dicevano qualcosa. Eh beh, la differenza tra un cantante e il cantautore è proprio quella, cioè un cantautore ti vende, un cantante ti vende una canzone, il cantautore ti vende un mondo. Anche un'idea? Eh certo, ma anche perché in genere il cantatore fa un, pensa, pensa, come dire, a un album, non pensa a un singolo. Io ogni volta che facevo un album, per me l'incube dirà qual è il singolo, ma non lo so, sceglietelo voi. Quella è più un'esigenza radiofonica, poi l'artista scrive. Per me le canzoni sono, come dire, tutte uguali, nel senso che non penso, quella è il singolo, quella non è il singolo, anzi, normalmente mi piacciono sempre di più quelle che... Perché poi non vanno in radio. Esatto, ma infatti in questo album io ho messo, ovviamente, i grandi successi, poi ho messo tutta una serie di canzoni che erano dentro gli album, quindi per tanta gente come se fossero nuove, perché se o hai quell'album me lo conosci, e poi inediti, quindi diciamo che è una summa di me a 360 gradi, partendo proprio dalla musica classica, perché io sono partito con la classica, ho cominciato a otto anni a studiare il pianoforte, fino a sedici anni ascoltavo quasi esclusivamente musica classica. Le manca un pochino il jet set, lo star system, diciamo il pubblico delle grandi occasioni? C'è sempre, la tv diciamo, ecco la tv. Ma la tv mi manca zero, anzi, io con la televisione faccio a botte, l'unica cosa che ho fatto era music farm e mi pento di averla fatta, perché ero finito lì dentro... Questa è una notizia. Ero finito lì dentro, convinto che fosse un'altra cosa, poi mi sono ritrovato a convivere con Iva Zanini, che capisci che dopo 40 giorni uno va fuori di testa. Soprattutto la mia carriera l'ho sempre pensata non in televisione, ma per me la carriera di un cantautore era quella di fare gli album, di fare i concerti, la televisione... Quelli che poi ecco sta facendo da 30 anni, da oltre 30 anni. Ma è quello che poi mi diverte, cioè fare i concerti e fare gli album. Cioè per me è questo, è scrivere canzoni, cioè fare il cantautore è questo. Anzi addirittura nella mia adolescenza, quando c'erano i vari Bennato, Venditti, De Gregori, cioè gli anni d'oro dei cantautori, noi non li volevamo proprio vedere in televisione per niente. C'era quasi anche uno snobismo da parte loro. Ma se avessimo visto loro in televisione sarebbe stata la loro fine. Fabrizio in tv ci ha nato credo tre volte, ripreso a casa sua però. Addirittura Fabrizio non faceva mai quelle interviste parlando... E anche quelle che stiamo facendo noi. No, lui le faceva via fax. Infatti mi diceva ma tu perché fai le interviste? Perché mi diceva sai, uno mi fa una domanda e io rispondo magari di getto. Poi magari ci penso il giorno dopo e dico ma perché ho detto quella roba lì? Quindi allora lui si faceva mandare domande, poi si scrive la risposta, poi la mattina dopo rileggeva. Però non si perde un po' la spontaneità in quel modo? Ma dipende dal tuo carattere. Fabrizio per esempio era uno molto timido. Io meno, diciamo che mi diverto anche molto a improvvisare. Lo vediamo anche nei social di cose, ne fa parecchie. E poi io sono un animale da palcoscenico, mentre Fabrizio odiava stare sul palco. Fabrizio mi diceva, Bellin ma come fai a divertire? Perché lui fare un concerto era un incubo perché essendo timidissimo aveva sempre paura. Non aveva quell'empatia? No, poi piano piano con gli anni si divertiva un po' di più. Ma io mi ricordo, mi invito al primo concerto del Tour delle Nuvole a Modena perché apriva il concerto con 800 con una canzone che poi abbiamo scritto insieme. Ed era in paranoia cieca. Dicevo, Bellin ma c'è tutta quella gente. Dico, guarda che sono lì per te. Non è che sono venuti a tirarti i pomodori, sono venuti perché... E ma lui non... Preferiva scrivere e stare dietro le quinte. Sì, lui preferiva scrivere, fare i dischi e i concerti era un po' più restio. Ma secondo lei si tornerà al cantautore? Oppure la musica ormai ha questa driva? Allora, dipende cosa intendi poi per fare musica. Per me comunque deve esserci una componente artistica che è fondamentale. Se tu intendi la musica come un oggetto solo commerciale, io dico sempre, un artista può anche diventare un prodotto perché se vai incontro ai gusti del pubblico in quel momento ti compra il tour. È vendibile. È vendibile. Il contrario è impossibile perché se faccio un prodotto alla base commerciale vuol dire che l'arte non c'è. E sai, è sempre un discorso di mode. In questo momento io sono dei modè. Però è un artista. Ma l'importante è seguire, come dire, una tua strada. Io nella vita ho scelto di fare il maratoneta, non il centometrista. Anzi, devo dire che all'inizio il successo che ho avuto subito mi aveva anche un po' spaventato perché i miei primi dischi, non è che erano dischi commerciali, e cartoon, si viene il fortuna del mio forte, lo sono diventati perché nacque quella canzone, quella di bicicletta, che era sotto questo sole, che era un cazzeggio di un pomeriggio, che addirittura è discografico. E ancora ci cazzeggiamo poi, no? Sì, ma i discografici non volevano pubblicarla perché dicono, sta canzone non funzionerà mai. E tra l'altro mi ricordo che quell'estate lì era l'estate del Mondiale del 90, e c'era la canzone di Bennato Nennini, che doveva essere la canzone, era la sigla dei mondiali, e invece a sorpresa, con stupezza... Con il giro d'Italia è partita... No, non so, sta canzone è partita da sola e ancora oggi la cantano i bambini, cioè... Però quella canzone lì mi ha fatto arrivare al grande pubblico che poi... Magari l'ha seguita anche nelle altre cose. Assolutamente. Grazie mille, possiamo salutare Teleambiente? Cari amici di Teleambiente, mi raccomando l'ambiente, lo dice la parola a te. Giusto, grazie. Ciao Francesco Baccini, guarda che fantasia di colori allucinanti. Look sostenibile, grazie. Questo è da tedesco proprio, arancione, rossa. Grazie. Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quante articolini scambio, quante belle figlie da giocare, e quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle figlie rotola, e quante belle triglie nel mar. Grazie.